Ho fatto un esperimento con la Blaggy Sunny, doppia lente, planiforme. Mi saluto, mi vedo un doppia lente planiforme sopra un retino occhi di mosca. La Blaggy Sunny. Ho sovrapposto un retino incorporato. Mi saluto, mi saluto, mi saluto. usato, ricavato dalle matrici per la macchina stampa Bessier più due denti planiformi sono opposte e per il film vediamo di visualizzare un po' il composto con una software MAGIC video di lux, non ci siete preghi per mille mesi ne avete vi saluto grazie 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 come si vede la videocamera con doppia lente con flyside lens tenuta da una matrice micro forata usata per i cilindri stampa terzi di rilievo accentuato di rilievo accentuato Anche se l'umosità è ridotta. Tanti del treno per Bergamo Scienza, poi magari per andare al Museo delle Scienze in Milano. Vi saluto. Tanti del treno. 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 Il mio frattore vostro, il frattore di ottobre, il frattore di sole finitura, Sì, sono andato. Non lo so. Sono andato. Grazie a tutti. 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 Ci sono due musiciste... di Beatle. a vederrata La città è la città della regione la nostra di Bergamaschins iniziativa il portoglio e 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 grazie buongiorno e 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